Un anno esatto dopo l'acquisizione della ex area Giovanni Crespi, Officine MEC dà il via alla bonifica del sito. 29.000 metri quadrati in viale Pasubio, stretti fra il viale e il Sempione, che sono stati uno dei capitoli più importanti della storia economica dell'Alto Milanese. Adesso sono iniziati i lavori, nei prossimi giorni verranno smantellati i tetti da mianto, l'obiettivo è di concludere la bonifica entro due mesi. Poi prenderanno il via le demolizioni. Cosa ne sarà del futuro dell'area però è ancora presto per dirlo. Il confronto con il Comune è appena iniziato, quindi per il momento ogni ipotesi è ancora sul tavolo.